Salve a tutti ragazzi, ciao da oggi siamo qui in questo nuovissimo video Secondo appuntamento con la carriera con il Perugia Ripeto, ci metto un bel po' a simulare una stagione intera quindi non so quando vedrete questo video Ma iniziamo immediatamente con i playoff Ve l'avevo detto, io giocavo, vi ho fatto vedere anche la squadra Tra l'altro devo scrivere qua Nulai che se ne andrà Insomma vi ho detto che sarebbe cambiato qualcosa e vi ho simulato una stagione senza registrarla Perché è noioso, penso, farne due in serie B Quindi ok, ci vediamo direttamente ai playoff Ci siamo visti insomma direttamente ai playoff E ora li andremo a giocare insieme al resto della stagione Questo video penso sarà più lungo perché oltre ai playoff Insomma devo simulare la prima stagione di serie A Mi pare che l'altra è Udinese-Salernitana Quindi io direi subito di avviarci nel simulare gli attacchi contro il Pisa Mamma mia Pisa che mi sa che non è salito per pochissimo Comunque abbiamo una difesa orribile Allora Foster quello lì che non mi ricordo Tipo quello inglese con difesa Lo potrei lasciare perché cresce Però l'altro va cambiato Cioè fa schifo è meglio È un 63 Però arriva dai, arriva abbastanza in alto Arriva quasi a 80 Mi pare 78 Quindi niente Poi non gioco la carriera da un bordello Mamma mia 1-0 Pisa già Però vabbè sappiamo che con gli attacchi funziona così Cioè Vanno sempre in vantaggio gli avversari È proprio scritto Di serio Proprio lui Signori Giuseppe di serio Mamma mia Facciamo Abbiamo fatto una risultanza bruttissima Però vabbè Sembra che gli hanno sparato 1-1 E al 28esimo La Ormonitor storto Sviderski Che non so se ancora Se terrò Venderò Di serio un'altra volta Perché ho il trainer Leva qui Mi dà fastidio Meno male che non si è rimessa la telecronaca 2-1 Pisa Al 40esimo Ok Dopo da questa partita Vedremo se Ha senso Insomma Giocarsi Cioè farvi vedere Il ritorno Felix Afena Ghian Ci mette il segno lui Che ha fatto capocannoniere Mi pare della scorsa stagione Che in realtà sarebbe Dello scorso video Della scorsa stagione Non lo so Perché non mi ricordo 23 gol Ha fatto 2-2 Felix Di serio Vede Felix Non giovo Felix Ma Felix Afena Ghian Mamma mia 3-2 per noi Al 42esimo Normale 3-3 Ah Si deve fare questo Mamma mia Però è tosta È tosta Veramente Mamma mia Biraghi Che punizioni Ci provo eh Provo a tirare Vai Biraghi Oh Nah L'avevo vista bene 4-3 Prisa Che schifo Vabbè la prossima Facciamo me la gioco Ma non ve la faccio vedere Cioè Non lo so in realtà Devo Forse le ultime azioni Signori 3-2 Per noi Devo cercare Di superarlo Ecco No Uh Sì 4-2 E chi si recupera più E chi si recupera più Speriamo che non ci abbiano segnato Ok Vinta la prima Non serve neanche farvela vedere Io simulerei anche Azzarderei A simulare Il ritorno Ehm Perché Partita Ha senso Unico 3-0 Che tra l'altro L'Udinese Si sta contendendo Lo scudetto Nella vita reale E qui Retrocede Su FIFA Ehm Ok Udinese Ehm Comunque sta La nostra valutazione Sta scendendo Però ora Con questa Serie Che ci porteremo A casa Tra 3 2 1 Non voglio fare figuracce Ora Udinese 4-0 2-1 E andiamo in Serie A Ehm Vabbè Non mi interessa neanche Ma hanno Silas Ehm Silas Quello lì Ehm Waman Quello lì No Come hanno fatto a retrocedere Vabbè Sono forti anche nella vita reale Comunque È finito E siamo Ora ci vediamo Con il calcio Mercato In Serie A Perché Sì Siamo in Serie A Abbiamo vinto i playoff Allora 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 Questa qui È la Formazione Di inizio Insomma Oddio Aspettate Ho sbagliato Di Inizio Serie A Inizio stagione Ehm Molti Se ne sono andati Se ne è andato anche I birachi Ma sono andato A recuperarlo Dagli svincolati Ehm Poi Se ne è andato Ehm Ulay Oddio Come si chiamava quello Ulay Quan Ulay Mi pare E L'ho dovuto sostituire E anche qui C'era Blink E Ti ho messo Andre Gomez Che ho preso Tra gli svincolati E In porta O al posto di Moro Che cresce Probabilmente Lo rimetterò In futuro Ho preso Il nostro carissimo Portiere Norberto Neto E Chi c'è Anche Nessuno Ho un po' Di panchinari Ho Raider Maddos Che sto cercando Da inizio carriera Di venderlo Cioè è proprio Scontento E comunque Meno male Che ci sono Molti svincolati Insomma Si trovano Se cerchi Perché Ah e Pembele Ho messo All'inizio Dove essere Terzino Ma dopo ho capito Che Birachi Si era solo Risvincolato Non era Vabbè Insomma Stato venduto E quindi L'ho ricomprato E Pembele Può giocare Anche Di Cielo Metto Ma senza Cambiare il ruolo Che ci mette molto Ed ora Ci andiamo a fare Anche Il debutto Che in realtà C'è stato Anche per tanti anni Il Perugia Tra l'altro Per la partita Contro la Lazio Dicevo Facciamo Il nuovo Debutto In serie A Per il Perugia Contro la Lazio Facciamoleci Cioè Leviamoci un attimo Le mail Tra l'altro Oggi Lunedì 17 ottobri Il giorno Che sto registrando Ovviamente Non vedete mai Questo video Oggi Penso Verrà assegnato Il pollone d'oro Voi sapete già Chi l'ha vinto Ma secondo Vabbè dai Se non lo vince Karim Ora lo vince Messi Che non è stato neanche Convocato E Vabbè Sinceramente Spero E penso Lo vinca Karim No Sbagliato Ma siamo troppo Forti 3 a 1 L'ho simulata Ve lo giuro Ora giochiamo Però C'è Mamma mia 3 a 1 contro La Lazio A parte che la Lazio Non so se stia andando bene So solo Che l'Udinese Nella vita reale Abbiamo già visto prima Cioè ora Il retrocesso È tipo il terzo anno Che in Serie B Il secondo E nella vita reale Sta andando a vincere Il campionato Praticamente È terzo Sta facendo Una stagione Veramente mostrosa Ed ora Ed ora Io direi Cioè non Direi Facciamo così E andiamo subito Alla prossima partita Che è tra l'altro 37 milioni spesi Non so dove li ho trovati Infatti All'inizio Il campionato Ne avevo tipo Una ventina Tipo 15 Poi Ho venduto E E sto arrivato A quei giorni E a quei giorni A quei soldi E allora Io skipperei L'ultimo giorno di mercato Perché non ci interessa Non andrei alla partita Da là Ma andrei Direttamente Da quella Sezione principale Tra l'altro Dovremmo essere Tra i primi La P Quante Va bene Non ci interessa Giochiamo solo Gli attacchi E facciamo finta Che era questo Non quello Contro la Lazio Che è andato benissimo Il debutto Tra l'altro Non so come abbiamo fatto Mi aspettavo di perde Ora vai a vedere Che vinciamo Il campionato Vabbè il campionato Non lo vinciamo Però Potremmo provare A qualificarci Anche in conference Una qualificazione In conference Non mi farebbe schifo Ora vediamo un po' Vodalsi che la Lazio Cioè è calata Insomma In queste due stagioni Allora Andre Gomez Che è calato Cioè non so se Non credo sia 75 Proprio già da Già da inizio FIFA Ecco Ah Allora In Serie A Tra l'altro Cambia tutto Il coso Lì in alto Il punteggio Batte la punizione Cristiano Biraghi Per Daniel Maldini Brian O'Day Felix Felix Avenagian Che tiro Scandaloso Ancora 0 a 0 Cerchiamo di battere Questa grandissima punizione Ah Io direi Così Mamma mia Forse non era da tirare Quella Finita 0 a 0 Vabbè Non poteva andare meglio Peggio Comunque Imbattuti Cioè mi aspettavo Che stavamo già Due sconfitte Ci vediamo Ci vediamo Insomma Vedrò come suddividere il video Allora Siamo ancora Imbattuti Per ora Cioè abbiamo fatto Tutti i pareggi Quindi un po' Non schifo Solo la prima contro la Lazio Abbiamo vinto Però siamo in zona Europa League In realtà in zona Conference Però Sì Zona Europa League Sì E abbiamo la Juve Che tecnicamente È Terza Se non ricordo male Ok È terza Sotto il Napoli E l'Inter Che hanno Alla fine Non c'è nessuno A punteggio pieno E io direi Di andare Immediatamente A giocarci Questa partita Perché sì Dai Vi gioco Un grande Big match Contro la Juve Comunque Mi manca La Serie B C'è anche Nito Che sta 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 diminuendolo Vero Spero che Non diminuisca Anche le prestazioni Finché Moro Non raggiungerà Il suo apice Che Tanto In futuro Faremo affidamento Su Moro Il portiere Base Il portiere Iniziale Nostro eroe Inizia questo match Beppe Mamma mia Allora Secondo me Partiamo 1-0 Ok 0-0 Possiamo vincerla Eh però Partiamo Eh siamo In difesa nostra Eh eh Ma la data Subito Ma la data Su di loro C'è Ma non vale Ma la data Nooo Ma io Non avevo mai visto Che Da un mio attacco Facevano Goal Ma non ci credo Non lo sapevo Che poteva Cioè poteva Accadere O almeno Che si poteva Vedere Che accadeva Ok Ok Chi lo batte A parte che c'è Birachi Però facciamo Battere a Felix Eh troppo male Malissimo Palo No Prendi Felix Ah Non mi dire Che è finita 78 A lui Ok Già mi sono Fatto lo schema Eh no Non vale più Però No perché Va così Chi è lui Ah No Dai Il secondo palo Sul rigore Qui E finisce così 2-0 Juve Due pali Due pali Potevamo pareggiarla Questa è Ci hanno battuti Non siamo più L'imbattuti Ragazzi Siamo contro il Monza E mi pare Il primo dicembre Questo video Penso che lo registrerò Tutto oggi Perché Si Ve lo vorrei caricare Per la 5 Comunque Devono tornare i video Su Ultimate Team Perché non li faccio Da un po' Comunque Questa squadra Uh Già A un minuto e trenta Comunque Questa squadra È veramente Da coppie europee Cioè Non vi so Cosa ho sbagliato Non vi so dire Se da Conference Cioè Li dovevo tirare Però Non lo so Quanto sarebbe Stato Buono Di serio Cioè Ha un buon piede Mi ha accompagnato Per tutta la carriera Però è forte Cioè Non so Quanto poteva segnare Da lì Eccolo Eccolo Sì Sì Certo Un sviderski Svidereski Come si chiama Mi pare che è serbo O sloveno Non lo so Slovacco Una di queste nazioni Insomma Oh No Di serio Devi mangiare più sano Se no Non riesce a correre Allora Dicevo Eh Non riesco Però qui Dicevo Questa squadra È sicuramente Da Coppa Europea Questa stagione Ma Quasi da Pareggio Vabbè Dai ci sta Cioè Quasi da Campionato Per farvi capire In Champions Non ci arriviamo Però in Europa League In Conference Potremmo Arrivarci Perché Anche perché Vabbè Qualche giocatore Tipo Lions Foster E Svidereski Dovevo cambiare Assolutamente Però Quest'anno Prevedo Una bella Europa League Una bella Conferenza Sinceramente Da giocare Ora che siamo Con questo pareggio Il mondo Sera tipo A 13 Mi sa che c'è Il Brescia Un punto E noi Siamo con una partita In più Vabbè Undicesimi Ci potrebbe Superare il Torino Come ci potrebbe Pareggere la Samp Ragazzi Siamo qui Contro l'Inter Non possiamo perdere Siamo senza Biraghi Che a gennaio Se ne è andato Con un precontratto Credo Cioè Poi non so Se tipo È questione di Cioè È tipo Andato svincolato Rigore Buono È andato Tipo Tra gli svincolati Non lo so Poi Dopo Forse Se è andato Tra gli svincolati Si riprende Eccolo Felix Proprio lui Felix Apenagian Comunque Questa squadra Al primo anno Non doveva Per niente Cioè È d'Europa League È d'Europa League Per niente Dovevamo Subito Essere Promossi Al primo anno Ma ha segnato L'Inter Non l'ho visto Vabbè 2 a 0 Tecnicamente Se non ha Si 2 a 0 Ma che minuto Ok 2 a 1 Non se facciamo Se facciamo L'altro Qual penso Che abbiamo vinto 52esimo È però A chi Il passaggio Passaggio distinto È però Dove passa Eh Gosens 2 a 1 Vittoria Signori Contro l'Inter 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 Di Inzaghi Soccombe Al Perugia Di Allegri Sì Il nostro allenatore È ancora Massimiliano Allegri Abbiamo battuto L'Inter Sono contentissimo Meno male Che ve l'ho registrata E quindi A quanto siamo Siamo messi A una partita In più Però Non posso Vedere ancora Vabbè Alcuni hanno giocato Anche Siamo a 29 La Tanta Non ha giocato Quindi potrebbe Ancora fare Qualche balzo Spero non vinca E allora Dovevo vedere Ora non abbiamo Il terzino Ma io sinceramente Se i biraghi Non si può riprendere Tra gli svincolati Io mi prenderei Un terzino Perché ho Pembele Che c'è E mi prenderei Un difensore centrale Volevo dire Perché ho Pembele Che è Un Appunto Terzino Al Perugia E allora Perché non ha Giocato La partita Com'è Possibile Forse Era infortunato Non lo so Visto male Allora Vabbè ci vediamo Non lo so Che partita Vi farò vedere Siamo a gennaio Insomma Vi faccio vedere Se faccio acquisti Ragazzi Ho un nuovo Obiettivo Noi vinceremo La Coppa Italia Siamo qui Praticamente Alla partita Dopo Contro la Fiorentina No due partite dopo E abbiamo due partite Di fila contro la Fiorentina Alla scorsa Ho subito Infatti ci ha superato In campionato Ma sinceramente A me non mi interessa Del campionato Se Passiamo in Coppa Italia Ora C'è Ha uno squadrone La Fiorentina La Camavinga La Camavinga Sale Molto anche Infatti 1 a 0 Fiorentina Già ma Secondo me Ce la possiamo fare Ce la dobbiamo fare Quindi La Coppa Italia Potrebbe No ragazzi Ci può svoltare La carriera Girati e tira No La parata Mignolè Mignolè Si chiama così Mignol Non Non lo so Non ho mai capito Come si pronuncia Il portiere 1 a 0 Fiorentina 1 a 0 Fiorentina Un altro Solo di rigori Andiamo avanti Solo di rigori Solo di rigori Sii Lo spiazza Dai Non si perde Questa Non si può perdere Dai siamo più o meno Sullo stesso livello Solo che loro Hanno più Troppi Centunesimo Ma eravamo Tipo al Sessantesimo Ma io mi ricordo Tipo quarantesimo Cioè non mi ricordo Che siamo andati Così tanto avanti Tira a caso Sii Ma spero Non ci sia il ritorno Il ritorno Da quanto c'è Alle semifinali Solo Ah Ok Fine Fine Passiamo il turno Di Coppa Italia Sorprendentemente Ai tempi supplementari Era bellissimo Se arrivavano i rigori Ancora non ho avuto Modo Su questo Piova Di battere A rigori Insomma Però ma Mi sa che Questi qui Non sono Proprio Cioè forse Quarti Cioè che saranno Allora Devo selezionare Un attimo Coppa Italia Freccia rossa E No Era il terzo turno E vabbè Siamo passati Agli ottavi Ragazzi Abbiamo Pareggiato Contro il Milan In campionato Il che Pareggio con il Milan E vittoria con l'Inter È una gran cosa E ora abbiamo il Milan In Coppa Italia Cioè giochiamo contro una squadra E poi ce la ritroviamo Tre giorni dopo In Coppa Italia Vabbè Mi sembra giusto L'Atalanta Cosa che non deve fare Ha vinto Ahimè Se vinciamo la Coppa Italia Non mi interessa Del campionato Perché Vorrei giocare Una Coppa Europea Però Beh Uh contro l'Atalanta Uh Uh contro l'Atalanta Quella è decisiva Quella è decisiva Però non so se vinciamo A San Siro E farvele vedere E farvele vedere Entrambe È un po' troppo Cioè il Modena Tra l'altro Ragazzi la Coppa Italia Non la vinciamo Ve lo dico io Ve la faccio vedere Solo in caso Di vittoria Dopo ci Ora ci vediamo Con l'Atalanta Tra poco Non ve l'ho potuta Far vedere Perché Ho sbagliato A cliccare Ho messo Gioco a partita Sì abbiamo perso 2 a 0 Problemi Eh Non so se riusciamo Ad agganciare L'Europa Alla prima stagione Cioè alla prima Alla prima stagione In Serie A E ora Vediamo un po' Cosa fare Tipo Mi simulò Questa partita Contro il Bologna Non dovremmo Avviare problemi È sottolineo Il Bologna 2 a 2 Io non parlo più Non parlo mai più Addio Siamo probabilmente Con l'ultima clip Di questo video L'Europa Si può ancora Agganciare Ma no Sì ma no Siamo contro La prima in classifica La Juventus Concludo Questo video Mi sa come è iniziato Perché tipo La prima partita Era contro la Juve Vabbè Ha uno squadrone Non vinceremo Oddio De Sciglio Ancora Si porta dietro E Non so Sinceramente Potremmo anche Vincere Ovviamente Però Vabbè Ormai La posizione In classifica Mancano 5 partite Con questa 4 Senza questa E ci proverò Ci Provo Insomma Vinciamo Se vinciamo E' bene Ma veramente E' bene Poi ci dovrebbe Capitare Un'altra partita Contro l'Atalanta Forse Perché ora E' lei Settima Come prima Già è buono Che al 14esimo Siamo 0 a 0 Dai Dobbiamo Dobbiamo Mostrare Che noi Eh Vabbè Addio 25esimo 26esimo Ancora 0 a 0 Strano Dobbiamo dimostrare Di che pasta E' fatto Tra l'altro Noi siamo Ma Chi la guida La Juve Cioè noi siamo Massimiliano Allegri Cioè nel senso Come allenatore Perché l'ho scelto Chi è l'allenatore Della Juve E' arrivato Il primo gol Allegri Comunque questo qui È il derby Di Allegri È vero Non so perché Ho scelto Non so bene Perché ho scelto Allegri Come allenatore Della squadra Cioè si poteva Scegliere Un allenatore Già esistente E ho scelto Allì 3 a 0 Eh niente Eh niente Ora ci vediamo Direttamente A fine campionato E vediamo Un po' Cosa è successo E ci vediamo Direttamente Poi nel prossimo video Con il mercato E tutto il procedimento Aver messo like al video Ma che cosa è successo dopo E soprattutto Chi era l'aggressore E mo aspetta Ma te lo dico L'aggressore non era Un semplice Umbriaco Ed è tantomeno Un sensatezzo Al momento vi dico Che il suo patrimonio È di svariati Milioni di dollari E a breve vi dirò Chi è E perché Questo particolare È fondamentale Per lo sviluppo Di questa storia Dopo il termine del video Io e i miei amici Ci siamo tornati a pensare Dicendo Ma adesso che facciamo Lo denunciamo a questo Ti chiediamo il risarcimento Senza denunciare Volevamo svolgere Il tutto pacificamente Invece lui è ritornato Ed è successo questo No tranquilli Non è successo davvero Volevo solo A mettervi un po' d'antia In realtà Lui te mi era andato Già da un bel po' Ma pure di testa eh Semplicemente Il camminere della pizzeria Conosceva personalmente La persona in questione E si è presa La responsabilità Di ritarcire personalmente I soldi della videocamera Però 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 La polizia era stata Già chiamata Non è arrivata subito Ma quando è arrivata Semplicemente I ragazzi della pizzeria Gli hanno detto Di andare via Perché avevano Ricordo già la faccenda Pacificamente E che pace Quando la polizia è arrivata Io e i miei amici americani Eravamo già altrove Ovvero In un po' Molto conosciuto Ed importante Per l'infanzia Di tutti i bambini americani Vi mostro che cosa abbiamo fatto lì E poi rimanete connessi Perché c'è una cosa che è successa Dopo quella serata E soprattutto Vi svelerò La vera identità Della persona Che ci ha spaccato la videocamera Siamo giunti alla sera Il posto che visiteremo oggi È Chucky Cheese Ed è un posto Molto iconico Per le famiglie americane Perché si tratta Di un ristorante In cui c'è pure una sala giochi Quindi qua vengono le famiglie Con i bambini E vi giuro Guardando all'interno Mi sembra un posto Abbastanza accogliente Carino E veramente Non vedo l'ora di mangiare E giocare Ed entrando Ecco qua Tutti i tavolini Tutti i videogiochi E ovviamente Non poteva mancare La sezione premi Ma guardate Che figata Giuro Avrei voluto avere Cinque anni Fine campionato Siamo arrivati Vediamo un po' Simulando Contro la Roma Che è Colei Che ci ha Fregato la conference Comunque abbiamo Veramente una buona squadra Penso che Eh Vabbè dicevo Penso che Nel prossimo stagione Niente Europa League Conference Ma Champions Cioè Siamo Siamo veramente Illegali Ora non perdo A parte questa partita Non perdo da un sacco E Finisce qui Finisce qui il video Finisce qui la stagione Siamo arrivati Noni In serie A Se non decimi Non ho visto Se quella prima di me Ha vinto Ora Ci vediamo Nella prossima stagione Con i nuovi acquisti E nel prossimo video Bella Che non so Penso uscirà Tra una settimana Sette giorni Dieci giorni Così Non perdo da un sacco Sette giorni